Siamo i genitori di Aftamu. Nostro figlio è di origine etiope e ha 13 anni, anche se coi primi baffetti dimostra qualche anno di più. Da mercoledì 4 gennaio Aftamu è scomparso di casa e non abbiamo sue notizie. Temiamo che stia correndo grave pericolo di vita esponendosi a pericoli lungo il percorso che sta facendo. Gli ultimi indizi dei carabinieri che stanno conducendo le indagini fanno pensare che Aftamu stia dirigendosi verso la Calabria e la Sicilia per tentare un imbarco clandestino verso le coste del nord Africa per poi cercare di raggiungere il suo paese d'origine, l'Etiopia. Aftamu è alto 1,60 m circa, è di corporatura robusta e ha un bellissimo sorriso. Al momento della scomparsa indossava una felpa con una cerniera, una felpa di colore verde, portava dei pantaloni beige, un piumino blu e delle scarpe grigie. Normalmente Aftamu indossa gli occhiali, ha una montatura blu e portava con c'è la sua borsa blu a tracolla. Chiediamo a chiunque lo veda di segnalare immediatamente la sua presenza alle forze dell'ordine affinché possa essere salvato appena possibile. Grazie di cuore.